A 24 ore dall'assemblea sul policlinico che è stata organizzata e dalla denuncia pubblica che è uscita fuori abbiamo voluto nei nostri approfondimenti del Tg invitare qui in studio Rosanna Moncada che è la segretaria provinciale della Cgl che numerose battaglie sulla sanità ha condotto come sindacato già da tempo denunciando anche i disservizi. Dobbiamo dire la verità, con la signora Moncada ci eravamo già sentite la settimana scorsa per poterci vedere poi per una serie di impegni di redazione non è mancato per lei la signora non è potuta venire però adesso capita proprio come si suol dire a pennello quindi tanto grazie di aver accettato il nostro invito oggi l'argomento è il pianeta sanità nel senso che l'azienda ospedaliera ha dei vulnus ci sono delle cose che non vanno, ieri sono uscite fuori tutte e sono delle cose che tecnicamente anche dal punto di vista amministrativo voi dite da più tempo intanto la prima cosa, il Caltanissetta è un DEA di secondo livello però non è utilizzato come un DEA di secondo livello questo è uscito fuori ieri, lo avete detto spesso pure voi poi c'è la problematica del personale che viene dislocato in altri ospedali più o meno con necessità dobbiamo dire anche che abbiamo chiesto una replica al direttore generale Caltagirone che ieri come ho scritto è stato il convitato di Pietra e lui ha scelto di non replicare, è una scelta personale legittima e quindi questo pianeta sanità cosa non va secondo voi? Soprattutto e anche per ciò che riguarda lo spostamento del personale e poi parleremo anche dei reparti Una domanda che insomma cosa non va, iniziamo oggi, finiamo domani mattina però a parte... Confido nel suo potere di sintesi La battuta innanzitutto grazie per aver dato modo di poter realizzare questo incontro e poter chiarire la posizione della CGL perché sembra che noi ci poniamo sempre in contrasto con la dirigenza in questa botta e risposta dove effettivamente il direttore generale si sottrae in realtà al confronto Noi scriviamo tante lettere poi guarda caso quando decidiamo di pubblicare sulla stampa anche perché abbiamo l'esigenza di far conoscere ai nostri cittadini, ai nostri comunità i nostri interventi al di fuori dai posti di lavoro ecco che il dottore Caltagirone risponde risponde però senza accogliere le nostre richieste di incontro o di confronto come a dir si voglia in base alle materie che noi dobbiamo affrontare La sanità nissena soffre di una grave mancanza di organizzazione soffre di carenza di personale come tutte le aziende sanitarie attenzione non è che fa eccezione però è gestita male noi l'abbiamo sempre detto l'emergenza covid non ha fatto altro che aggravare questa situazione e Giocoforza ha anche dato la possibilità di giostrare il personale come meglio si è voluto e potuto gestire l'abbiamo detto un sacco di volte abbiamo chiesto anche l'allocazione del personale covid perché non capivamo, non comprendevamo al riemergere delle varie emergenze sanitarie che si sono via via susseguite perché mancava sempre personale e personale dedicato covid quindi qualcosa non andava sì è pur vero che mantenendo anche cioè riducendo anche l'emergenza il personale era stato utilizzato altrove però è anche vero che questo personale doveva rientrare nei reparti covid proprio per tamponare l'emergenza e questo è un problema che noi ancora non abbiamo risolto perché non ci dicono esattamente dove è allocato questo personale è una gestione di personale che tiene anche gli orari di lavoro non per ultima avvertenza che ha interessato la categoria che ha interessato un personale ausiliario è per tutta risposta che Altagionone ci dice no, guardate, non è una materia di contrattazione è una materia di confronto io decido che quello che avevamo deciso nel 2019 non è chiaro, non è leggibile e ritorno tutto al 2016 ora io senza entrare nei cavilli della contrattazione che potrebbe anche risultare diciamo, insomma, è più per gli addetti ai lavori il frutto di tutta questa questione è che noi non abbiamo un vero confronto una vera e propria trasparenza noi lamentiamo una trasparenza probabilmente non l'abbiamo capita noi ma se noi non ci sediamo con l'amministrazione non capiremo mai come viene gestita questo personale poi c'è la vicenda del Policlinico che ha attenzionato tutta la cittadinanza ieri c'è stata questa assemblea partecipata che ha visto anche l'attivarsi di cittadini diciamo normali ed è questo è un elemento positivo per questa città che in genere non ha mai dimostrato questo attivismo quindi queste sono iniziative lodevoli però i problemi vanno affrontati in maniera da poter portare avanti delle proposte se io mi lamento se io grido sempre che qualcosa non va e poi non dico che cosa dobbiamo fare non abbiamo poi realizzato granché lì non dovrebbe essere la politica a intervenire? sicuramente sì infatti noi lamentiamo è la politica che... la programmazione è un affare della politica scusate il bisticcio di parole però è così cioè è la politica che decide di pianificare e quindi anche a livello della sanità sono i politici deputati alle scelte e alla proposta perché hanno il criterio della rappresentanza lì si vota per poi scegliere al meglio rispetto alla cittadinanza non lamentiamo una mancanza di attenzione della politica a livello regionale nel confronto del nostro territorio e non ne vogliamo fare una battaglia contro il territorio di Enna questo deve essere chiaro come è stato chiaro quando noi abbiamo portato avanti la nostra avvertenza sull'emodinamica cioè non portiamo avanti i caltanissette per abbattere Enna assolutamente no noi dobbiamo guardare un territorio centrale a un centro della Sicilia che è un territorio che sta veramente penando dal punto di vista economico, sanitario, viario, infrastrutturale, tutto e se non ci aiutiamo noi come province centrali invece di farci la guerra non ci sediamo e capiamo che cos'è meglio per le nostre province noi ci facciamo una guerra inutile la mancanza di personale il depauperamento come ieri ha detto il sindaco durante i suoi due interventi quali conseguenze possono portare a livello di erogazione dei servizi perché ieri come lei ha potuto vedere dalla diretta perché so che l'ha seguita è uscito fuori che comunque la carenza di servizi la lentezza dei servizi lo hanno detto anche due medici che sono intervenuti è un elemento forte rispetto alla prestazione sanitaria allora io voglio chiedere una cosa sì è vero è un elemento importante però noi ci troviamo di fronte a una struttura che si definisce DEA di secondo livello che in realtà non è un DEA di secondo livello cioè non dà quelle strutture quelle unità operative di specializzazione che la rendono un vero e proprio DEA di secondo livello il discorso del policlinico va distinto cioè una cosa è l'offerta sanitaria e una cosa è l'offerta, la formazione il policlinico, io che voglio il policlinico a tutti i costi ma se non un DEA di secondo livello che si pone come centro di riferimento per l'offerta di formazione io non ho fatto niente cioè noi gridiamo a policlinico, noi, Enna ma non abbiamo in realtà un vero e proprio centro un DEA di secondo livello noi dobbiamo andare lì a puntare noi dobbiamo fare in modo che la nostra vera offerta sanitaria sia degna di un DEA di secondo livello noi abbiamo ancora le parti accorpati le parti dove mancano i primari la mancanza di personale aggrava ancora di più questa situazione se io privo il personale e porto infermieri nel territorio senza poi svantaggiare perché poi non si dica che noi andiamo contro il territorio però non possiamo neanche svuotare il nostro ospedale e non capiamo perché questi spostamenti anche lì non l'abbiamo chiesto il regolamento di mobilità che l'ASP ha tanto osannato che avrà deliberato ha un vuoto da agosto quando l'abbiamo sottoscritto all'altro ieri quando l'ha deliberato che nel frattempo ha spostato tutto il personale che voleva il fatto che lei dice che l'idea non è in realtà di secondo livello però che ci sono alcuni reparti sulla carta si potrebbe pensare a un certo punto a un'idea di declassamento? Beh, io potrei avanzare anche l'idea di un'intenzione è intenzionale questo declassamento non c'è veramente cura per questo territorio per questo ospedale per tutto il territorio che serve questo ospedale credo che alla lunga potremmo anche pensare che sia così perché tutto quello che sta succedendo o tutto quello che non si fa, che non succede comporta questa nostra riflessione perché in realtà è così noi abbiamo medici che non vengono qui e l'abbiamo anche più volte scritto perché non sono attratti da queste strutture nostre ospedaliere? Perché? Uno, non applicano bene i contratti collettivi abbiamo un'avvertenza dei medici di pronto soccorso che non gli vengono pagate le indennità notturne perché? Io dico perché? Perché un lavoratore che sia un infermiere che sia un medico che sia un osseco che sia un ausiliare un lavoratore deve essere sempre costretto a dire le vie legali quando c'è un contratto collettivo che gli garantisce il pagamento di determinate indennità perché? Meno personale conseguenza reparti accorpati quindi è un cane che si morde la coda Certo, certo, certo Noi ci facciamo portavoce con il direttore generale Alessandro Caltagirone di un confronto anche pubblico anche qui in televisione se vuole venire vuole venire a confrontarsi cioè in qualunque caso le porte sono aperte c'è una grande disponibilità giusto appunto per la sanità nissena perché comunque i direttori generali arrivano, organizzano, amministrano, decidono però come la legge in questo momento vuole poi vanno via e rimane nel territorio quello che si è fatto di buono è quello che non si è fatto e quello che si è fatto di buono è uscito qualche giorno addietro tra le quali anche il reparto di ortopedia che è primo tra in Italia per una certa tipologia di operazioni quindi vuol dire che abbiamo anche medici e primari di grande qualità nel caso in cui fossero messi nelle condizioni di poterle esplicare questa qualità ma noi abbiamo medici di grande qualità abbiamo medici che effettivamente sono il vanto di queste appunto per questo a noi viene questo rammarico cioè noi abbiamo tutte le potenzialità per fare in modo che questa nostra sanità sia veramente all'avanguardia però dobbiamo essere pratici dobbiamo essere propositivi quindi il contrasto lo dice una che insomma sul contrasto porta avanti le vertenze proprio perché noi spesso ci mettiamo di traverso ma questo non significa chiudere la porta alla discussione però dobbiamo parlare dobbiamo capire e poi dobbiamo essere veramente chiari tutto quello che diciamo poi lo dobbiamo fare perché poi le belle parole sono belle ma i fatti hanno poi la loro importanza quindi da questo nostro confronto esce fuori che la necessità urgente di un incontro un confronto con la direzione generale sicuramente sì e che poi la volontà politica è una volontà importante e lo abbiamo visto anche in territori come Enna allora è un appello anche alla politica locale, regionale, nazionale è vero l'accoramento e l'affezione della politica fa tanto un territorio perché la politica è dentro la nostra società perché interviene nelle cose della nostra società quindi non serve solo il sindacato ma anche la politica che affianca il sindacato che già parte a fare le battaglie dobbiamo secondo me sederci tutti ognuno in base alle proprie responsabilità in base alle proprie competenze perché non siamo tuttologi a oggi abbiamo imparato un po' di termini scientifici amministrativi che ben venga però ognuno deve fare il proprio lavoro allora grazie di essere stata con noi grazie per questo confronto e sicuramente buona continuazione di lavoro grazie altrettanto buon lavoro a voi grazie a tutti i miei grazie a tutti i miei